Vedo una notte di stelle e farfalle che si... Il quarto laboratorio è quello più immaginifico, più poetico e dedicato all'immagine del palloncino pieno d'aria. Abbiamo allestito una stanza molto suggestiva in cui i ragazzi stanno per un po' di tempo e si rilassano e giocano con i palloncini e poi li portiamo a riflettere sull'immagine del palloncino che sembra pieno di nulla, pieno d'aria eppure quest'aria dà consistenza, dà forma al palloncino e lo rende capace di volare. Io che ti cerco io senza parole, io voglio restare qui accanto a te Scivola sulla mia pelle una lacrima che mi libera Scivolano le carezze che i lievi consolano Tienimi dentro i tuoi occhi Ed il buio in me si illumina Che parlano dentro gli abbracci Mondi invisibili Ci è sembrato un'immagine poetica per parlare delle emozioni che sono quelle che effettivamente danno sostanza alla nostra interiorità e rendono anche capaci di volare